Aveva la cocaina in auto per il marito, ha cercato di fuggire ma alla fine è stata bloccata dalla polizia di Cesena. È accaduto mercoledì pomeriggio a Savignano su Rubicone, in manette due coniugi albanesi di 40 e 37 anni e ammanettati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel quartiere Cesare, il comune di Savignano, il personale della polizia ha notato la presenza di un uomo che, sostando vicino ad un pubblico esercizio, aveva un atteggiamento sospetto agli occhi dei poliziotti in Italia da far pensare ad un'attività di spaccio di stupefacenti. Il controllo ha provocato nell'uomo un evidente stato di nervosismo e di agitazione e per questo gli agenti hanno messo nel mirino l'auto e all'interno è sfuntata, chiusa, dentro alcuni involucri di cellofan, la cocaina. A seguito del rinvenimento della droga, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo ed è qui che nella vicenda subentra anche la moglie che ha cercato di allontanarsi, portando con sé una borsa all'interno della quale sono stati rinvenuti altri involucri di cellofan termosaldati che contenevano altra cocaina. È spuntato anche un bilancino elettronico di precisione utilizzato ai fini dell'attività di spazio. L'arresto dei due coniugi risultati essere incensurati è stato convalidato giovedì mattina dal giudice del Tribunale di Forlì che ne ha disposto la liberazione in attesa di giudizio.